Mi piace! Bellissimo! Ecco il fotografo ufficiale! Sto solo registrando, buonasera! Buonasera, ciao! I boss stanno pure qui stasera! Buonasera! Non smaccheremo mai! Picciotti! Ci rimarrò! Ciao! Ciao belli! Buonasera! Ciao bene! Ciao ciao ciao! Attenzione! Ciao ragazzi! Buonasera! 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 Io verrò a prendere il tavolo per tavolo, se no facciamo solo confusione! Cercherò di fare... alzare prima i tavoli con i bambini chiaramente, e poi uno dopo l'altro tutti gli altri. Purtroppo ci sarà un giallo che sarà anche l'ultimo, eh? No, 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 lo prendo quando... Dai microfono, ti salutiamo tutti? Sì, aspetta che arrivi. C'è Carmelo? Ehi ragazzi, come state? Un saluto a noi, come un passaggio, un applauso, un applauso, dai! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti